benvenuti in piazza del campo a siena e oggi un evento particolare siena mercato nel campo l'esperienza che vi vorrei proporre è proprio quella di calarvi nell'identità della città nell'identità di siena in tutte le sue forme una rievocazione storica di quello che nel 1300 era il mercato proprio in questa piazza due settori molto importanti l'artigianato artistico e l'agroalimentare dovete decidere di venire a siena o ritornare a siena per gustare tutte le nostre prelibatezze legate al cibo e alla cucina e per conoscere il meglio dei nostri artigiani artistici e soprattutto per perdervi nella città e nelle vie del centro storico per conoscere quello che è di meraviglioso e nascosto a siena quindi vi aspettiamo a siena per fare tutte queste attività al mercato nel campo e in tutti quelli che ci sono gli eventi che dal primo di dicembre al 31 gennaio sono in corsa con tutto il natale di siena